Let's play Molto 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 figo Molto figo Molto figo Potrò Mi permetterà di registrare video in HD E addirittura di montarli attraverso il telefono E spero di poter riuscire anche a caricarli direttamente su YouTube Quindi che ne so Dei vlog così di due minuti Alla Velocissimi Spero di poterli fare Quindi datemi il tempo solo di attivarlo E lo farò nei prossimi giorni Poi non so se ve ne rendete conto Ve ne renderete conto da questo episodio Ho il PC nuovo O meglio Non è che ho il PC proprio nuovo Nel senso che quello vecchio Però l'ho sistemato Perché Perché Cioè Dopo dieci minuti Diventava bollente Cioè io non potevo mettere le mani su WSD Che mi bruciavo la mano Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Cioè Vedo le cose da pazzi Quindi sono stato tutto ieri A smontarlo pezzo pezzo Il mio PC portatile piccolino Ho cambiato la pasta termica del processore E ora sembra Che posso addirittura congelarci Le carote Quelle Anzi le patate che ho in mano Detto questo non ci perdiamo in ciance Vi chiedo gentilmente Di lasciare un commentino qui sotto E ditemi che piccone più forte dell'alluminio mi posso fare Non mi dite lo steel che vi ammazzo Perché sono tre episodi che cerco di farlo Quindi non mi dite steel che vi giuro vi ammazzo Cioè vengo lì col piccone in alluminio Ve lo do in testa Fermo restando che per arrivare allo steel Ho bisogno di prendere quel cavolo di rutile Non ci sono molti altri modi Devo andare a prendere dal nether ragazzi E l'unico che ne so Penso eh Penso è avere del diamante Comunque a prescindere da avere del diamante Mi fa comodo Per fare il diamante Io devo sbloccare questa quest Siamo alla numero 7 Però per fare questa Strong infusion stone Io devo avere tutte Le essenze vecchie Le essenze vecchie Praticamente Dove stanno Oh E dai ma ce le avevo qua sotto Eccole qua Praticamente Delle essenze vecchie Cosa mi manca Mi mancano Le essenze di aria Le essenze di acqua Che non ho Poi le essenze di ossidiana Le essenze di blades E le essenze di Esperienza Quelle di terra ce le ho Quelle di fuoco pure L'alluminio ce l'ho La box seed Il skeleton Tutto il resto ce l'ho Quindi Cominciamo da quelle di blades Allora O meglio Facciamo Un blades Seed Bladesidmaton Ragazzi Ah Dovemmo fare una runa di aria Perché mi pare che non ce l'ho La runa di aria Si fa Ecco 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 Ed è tutto più chiaro Wool Wool Come faccio la wool Mi serve Non mi di Ma porco zio E io modo Dove la faccio la wool Non c'ho stringa a sufficienza Ma mi serve un carpet Però Allora calma Calma Allora Carpet Il carpet Si fa con due lane Quindi otto stringhe Intanto Intanto Vediamo se c'è un altro string Sei No No Che è Come posso produrre stringhe E dimmi che la posso fare Si E senza due spider Che ma va a cagare Il sick wisp Il sick wisp E vabbè Ciao Buonanotte Buonanotte Un spider fish Oh mio dio Oppure Lanna Distruggendo la lanna Oppure Ma che cazzo Oppure mettendo la lanna Mi tre stringhe Non mi conviene Oppure Che cazzo Spidery queen Oh mio dio Che è sta roba Vabbè il cotone Ragazzi il cotone È molto più veloce per fare il cotone Ditemi il cotone Come si fa Voglio sapere il cotone Qua dentro me lo dice No Ma che c'entra sta cosa Allora cotone Cotone Cotton Ok Cotton seeds Si fanno con i dandelion E i barley Allora Mi mancano i dandelion Allora Andiamo Facciamo un po' di incrociamenti Che quelli servono sempre Mi pare che l'otto No Nove Sì Allora Il dandelion si può fare Come lo facciamo il dandelion Sì vabbè Stavo qui Quindi si fa qua Si fa con i meloni E le sugar cane Facilissimissimo Meloni e sugar cane Allora Dammi i meloni Dammi i meloni Allora Tu via Tu via Tu via E dammi i meloni Allora Allora Dammi questo Diventa di L'imbroglio Così Qui mettiamo I quanti meloni c'ho? Tre solo Solo tre Che schifo Vabbè Uno Due E tre E tu vai Poi Qui invece Cerchiamo di Duplicare Altri Meloni Anzi Toliamo sta roba Via Via Le carote Tanto ce ne stanno Non vi preoccupate E facciamo così Così da un lato Duplichiamo i meloni E dall'altro Cerchiamo di fare Il dandelion Poi con Il barley Cioè facciamo Le I pigmoni I pigmoni Allora Semini Insieme a queste pumpkin Però no Aspetta un momentino Aspetta Vediamo qua Che semi sono Oh Ah perché Sono già 4 4 4 Questi non si sa Questi 2 2 2 8 8 7 Oh mio dio Questi 2 merda Li distruggiamo E vediamo queste carotine Dimmi che sono 10 10 10 10 9 Non male Non male Io me li terei E poi Ho scoperto che il massimo È 10 10 10 Quindi Buono Pumpkin seed 8 8 8 Però questo è buono Questi sono Qualcosa di questo La possiamo buttare via Dov'è Via questa Ok E tutta sta merda La distruggiamo Queste carote Ce le mangiamo Oh è arrivata notte No comunque ragazzi Cioè Ve ne state sicuramente accorgendo Non ha scattato ancora Per un secondo Cioè io non ci credo A me fin da piangere A pensare a sta roba qua Però Però Ragnetto Ragnettino Un piccolo Un piccolo Un piccolo Ragnettino Eh Ragnettino Oh dai Ecco Ha fatto il primo scatto Ma ci sta Cavolo Sono 6 minuti Che sto registrando E dopo 6 minuti Ha scattato Di solito Dopo manco un secondo Cioè io parto Già scattando Oh ma cazzo Stanno i ragnetti Ragno Allora Facciamo una cosa ragazzi Io stoppo un attimo L'episodio Fate la ricerca Di un bel Ragnettino Grosso E succulento Vello dalle zampe Ma ho bagno Che schifo Ehm Appena uccido E ottengo altre due stringhe Ecco un ragno No 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 Tutti 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 Dimmi che mi dà due stringhe Non me ne darei mai due stringhe E c'è pure un mini ender Che carino Che carino Che carino Una stringa Ciao mini ender Ciao Due mini ender Oh 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 non mi cazzate Ma Bello Ok Si son cazzati Si son cazzati mini ender Ehm Oh altra stringa No Era quello di prima Che ne ho preso Ma va a cagare Cioè mi stavo pure perdendo l'unica stringa oh qua c'è un aura node, zitti tutti che io me lo segno j perchè ci servirà j new aura node save, thank you toglilo però, che mi dà il cazzo a vederlo benissimo, ragno eccolo l'ho visto, giuro che l'ho visto oh perchè non corri, stessa di cazzo corri, corri corri forest, corri ah là ci sono i creeper carini ma ciao creeper ozzi cioè addirittura ragazzi, con il computer che non scatta cioè questo me ne ha dati due ma vai a cagare, ma sei un pezzo di merda brutto, ma proprio brutto dammi tutte le esperienze con il computer che in teoria non scatta cioè è figo perchè, cioè, potrei riuscire addirittura ad andare nel nether senza morire cioè ma vi rendete conto, un mami di di oi, mo so troppi ragni eh lì c'è un nether che probabilmente sono i genitori di quelli di prima e io li scanserei brutti enderozzi che fate lì ma con peperozzi oh mio dio ci sono zombie oh mio dio no vengono da me no io non ho fatto niente via 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 ah, via 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 ciao belli ciao io vado a dormire così ve lo metto a quel posto E dovrei avere tutte le stringhe necessarie Per fare, a prescindere dal fatto che facciamo il cotone Guardate, non ho più paura di uscire Con dei mostri in giro Sì, ma quello c'è il cappellino Oh, brutto cornuto Usami il tuo cappello che lo sciolgo Nell'acido Di massacro, brutto scemo Ok, ora Ah, vabbè, sta arrivando a me Allora, facciamo due pezzi di lana Benissimo, con due pezzi di lana Fatti così, io faccio tre tappeti Benissimo, c'ho poi la stringhe in più, che culo Che culo Poi mi dai una penna E poi Che altro mi serve? Che altro, che altro mi serve? Non per fare i cotton seed, ma per fare Gli air Gli air, gli air cazzi qua Questi, questi Ah, e tre mana steel, facile Tre mana steel, dovrei averceli qui dentro Due soli, ne facciamo un terzo Non c'è problema, non c'è nessunissimo Problema Io fare mana steel quando aver bisogno Tranquillo tu Qua quanto mana Stare qua è stra pieno Ma molto felice Io sono molto contento Ok, ora andare qua Sparare tre mana steel Poi One, two Three Ehm, gli diamo una botta Boom Una botta di vita La 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 Una botta di vita In teoria dovremmo anche continuare questa quest Eh sì, perché Vedete Ci servirà Eh, facendo quella quest lì Finiamo anche questa E io mi prendo il living rock Che mi serve molto di più del living wood Quindi poi sblocchiamo anche le rune più complesse Oh mio dio Io questa è la strada giusta Ragazzi, la strada giusta Sento che siamo Nella strada giusta Oh perché sono andato qua Non me ne fotte un cazzo E qua, sì Qua me ne fotte Beh, ah Ci serve il living rock Non so ancora Come chiamarlo questo episodio Perché Cioè, faremo Semi Ma, cioè Faremo semi Lo devo chiamare Fa cacare come nome Quei che dite Eh, vabbè Tanto quando lo pubblicherò ormai Avrò deciso il nome Cioè Non è che starò lì molto Ci schia Mi serve anche le rune di fuoco Per fare I Blades Seed Sì Rune di fuoco Quindi Tre mana steel Nether brick Gunpowder Allora Venite qua Nether brick E qua Tu sei qui sicuro Ecco di qua Poi 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 mi dai Una nether wart Benissimo It's worth E poi Mi dai Tre mana steel Tre mana steel 1,2,3 Eh Non serve nient'altro No Perché i mana steel Sì, ok È sufficiente 1,2,3 Thank you Facciamo 1,2,3 1,2 La terza cosa Qual era? Gunpowder Cacchio Gunpowder Sto qua giù Gunpowder 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 Eccola Eccola Gunpowder Via sta merda Togliamo pure sta merda Grazie Vieni qua Ci facciamo pure l'altra runa L'altra runa De fuoco Ma che caspita Vai Ok Quindi Con l'altra runa di fuoco Dovremmo riuscire a trovare qua Ci servono 4 regular essence Che intanto prepariamo Se ne abbiamo solo due Ne facciamo altre due con questo Con la regular Benissimo 1,2,1,2,1,2,1,2 Non è un cinese Ho fatto la battuta C'è l'essence seed Sì Un living rock Living rock Living rock Dove stai? Dammi 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 due Cavolo Perché almeno ora farò l'altra runa di acqua Perché così facciamo pure i semi di capperi e mazzi E facciamo pure i semi di acqua E facciamo tutto ragazzi Lo so Forse per alcuni di voi questo episodio sembrerà palloso 1,2,3,4,1,1,1 Che altro mi serve? Alle due blaze Io avevo già farmato off camera Ecco qua Benissimo Per alcuni di voi potrà sembrare un po' palloso Ma vi assicuro che non è palloso perché sono figo Punto Cioè Oh ma sti cosi si fanno dai blaze rot Le blaze rot Come cavolo le craft Ah con l'essenzo blaze Fighissimo Fighissimo E non ne avrò 150 milioni Mica Gli air seed Eccoli qua Si fanno con la runa di aria White popular leaves Delle foglie Cioè ma sono veramente così facili Cioè io mi crafto Mi crafto un cappero qua di forbice E mi faccio gli air seed Ma veramente O mi pigli No mi pigli per il culo Mi pigli per culo Cioè io mi prendo le foglie di questi per esempio 1 Quante ne hai presi? 1 E 2 Bene E mi Cioè tu mi stai dicendo che Crafto Che ma veramente Oh Cioè tu mi stai dicendo veramente che Che cosa ho preso? Blade 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 seed Ma allora No questo episodio lo dedico ai blades Perché sono troppo contento di averceli Allora quindi 1 e 2 Vuoi una di questa D'altro vuoi 3 regola E un Un cazzetto qua Cazzetto No Ok Cazzetto Dato Oh perché fai queste cose Ciao Ok C'ho il cazzetto Che te lo posso buttare Qui dentro Bene C'ho pure dell'essence Minchia Dobbiamo farne un po' Minchia Se ne dobbiamo fare un po' Allora Wick Vai così Vai di Di Wick Alla grande E poi fai così Così E così Sì Sì vabbè Magari cambiamo la pietra Grazie E abbiamo finito tutte le essenze Quante ce ne vogliono? 2 1 e 2 Giusto 3 Vabbè Tieno la terza Cioè sì È veramente così Easy E allora Facciamo pure La water La runa 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 O water Che si fa Con Sugar cane Canna da pesca Bone meal E 3 mana steal Andiamo a fare i mana steal Ragazzi Cioè Ma potrei anche dedicarlo alle rune In questo episodio Perché interessante Rune e blaze Rune e blaze È fatta Le butto per terra E ci faccio la screen Se È fatta Basta Ho deciso Rune e blaze Vai Dammi questo Ora Dobbiamo fare Dobbiamo fare 3 mana steal 1,2,3 Ok Poi ci serve Ci serve Una canna da pesca Come si fa la canna da pesca? Ma vai a cagare? Ma mi pigli per il culo? Eh? E io dove le faccio le stringhe mo? Dove le faccio le stringhe? Mi pigli per il culo? Ma sì che mi pigli per il culo Perché è ovvio Non mi dire che Sono già cresciuti i cotoni? Melone E melone Ma manco per il cavolo del cervello Per il cavolo del cervello Senti a me Mi sa che Devo Dobbiamo aspettare il prossimo episodio Ragazzi Per fare il water Mi sa proprio che sì Perché? 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 Perché non c'ho Cioè Vedi La sugar cake Ce l'ho Ce l'ho pure 2 3 Si Buona no 50 Raga però le butto Vabbè 3 Poi il bone meal Ce l'ho Mi manca però la canna da pesca Non ne ho qua una No Ho bisogno delle stringhe Per forza Le stringhe Cioè a meno che non viene notte Ma non mi voglio far aspettarti una notte Vediamo se riusciamo a fare un altro semino Che ci può essere utile Qua ti prendi 3 di questi Poi no Questo no Ti prendi 3 di questi Possiamo fare Allora questi quelli di acqua Sicuramente ci vorrà la runa Poi vediamo gli obsidian Obsidian Seed Ecco ma manco per il cavolo Vediamo gli experience Experience Seed Ci vuole Runa of mana E la bottle of enchanting Come caspita si sa la bo Che caspita dici Intellect drop Oh mio dio No ragazzi Come si fanno Come si fanno Gli experience Seed Experience Seed Quelli sono No no ragazzi Ragazzi Io come le faccio le bottle of enchanting Aspetta Seed di tutti Ce li ho le bottle of enchanting Ce li ho Experience drop E se faccio Se uso questi Molte le experience Non le posso usare Con Ecco la bottiglia Se ci faccio Se ci prendo una bottiglia vuota Mi diventa una bottiglia di experience Cioè dai Bottle of enchanting Intellect drop Si ma Ma voi siete pazzi Però Come le craft Le bottle of enchanting Oh mio dio Senti io ci provo Io ci provo Facciamo una bottiglia Una Cioè una decina di milioni Eh che cavolo Non c'ho manco il vetro Dovrei avercelo qua Si vabbè Ho tolto il libro Allora Vediamo qui Facciamo delle bottiglie Ok E poi ti circondo di questo No Ho un Uno solo Ho manco per il caso Andate a cagare Voi le bottiglie E tutta la razza vostra Io vi odio Come si fanno Ragazzi vi saluto Perché il video Se ne è troppo lungo Però vi prego Aiutatemi Non lo so Io non lo so Ci vediamo su facebook Google plus E twitter Però io non lo so Io non lo so Ciao Ciao Grazie a tutti.